Bella boys e benvenuti su questo nuovissimo video. Ragazzi faccio questa intro molto fast per dirvi ragazzi che io streammo tutti i giorni, io sono in live streaming ogni singolo giorno ragazzi, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18 e dalle 9 alle 2 di notte, e trovate il link in descrizione anche nel primo commento. Quindi ragazzi cliccate sul link, passate a lasciare un follow e ricordatevi ragazzi i miei orari di streaming perché vi consiglio di non mancare. Buona visione boys! Ah, dimenticavo, lasciate tanti mi piace, XD. Oh, oh, cazzo sta, ragazzi 150 di thing. You fucking kill me brother? Sono palesemente morta. Oh, cazzo sta, ragazzi! 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 Grazie. S'ho morta, raga. C'è una squad intera qua. Dammi delle cure. Please. No. No, please, no. No, please, no. Ah, bello mio. S'è one hit, giusto? Sì. Andiamo a fare i giochini qua. Quindi, che... PUBG simulator, by the way. Oh, bello mio. No, bello mio. Ok. 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 La fauna. Ok. 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 Grazie a tutti 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 Non ci posso cadere ragazzi Per un cazzo di secondo Ma mi trolli? Mi trolli? Puppalo tutto 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 Puppalo tutto 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti